Bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. Le correnti fredde orientali hanno raggiunto il territorio italiano. Le temperature hanno subito un sensibile calo e il tempo risulterà incerto anche domenica. Ma vediamo nel dettaglio il tempo su Puglia e Basilicata per sabato 17 novembre. Si verificheranno piogge irregolari alternate a schiarite durante tutta la giornata lungo le coste adriatiche e primo entroterra pugliese. Fenomeni anche su Gargano e più estesi al mattino sul Salento. Su zone di confine e sulla Basilicata i cieli risulteranno spesso nuvolosi ma con basso rischio di fenomeni. Non si escludono fioccate sui Monti Lucani oltre 1300 metri. Per quanto riguarda le temperature registreremo un ulteriore calo di 2-3 gradi sia nelle minime che nelle massime, freddo nelle zone interne con minime diffuse sotto i 10 gradi. I venti soffieranno orientali con locali rinforzi da grecale sulle coste adriatiche sul Salento e per quanto riguarda i mari da mostri a molto mossi tutti i mari localmente agitati Ionio e Adriatico. Per la foto del giorno oggi ringraziamo Drino Foto per questa panoramica mozzafiato sulla bellissima città bianca Ostuni. Inviate la vostra foto del giorno alle nostre pagine facebook e al numero whatsapp. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.